Se sei in cerca di un'opportunità che ti dia la libertà di vivere come vuoi tu, avrai certo considerato l'idea di un'attività imprenditoriale indipendente. L'opportunità commerciale Herbalife Nutrition è la scelta di migliaia di persone che, come te, cercano orari flessibili, più controllo della propria vita e la possibilità di guadagnare. Herbalife Nutrition è l'idea nel settore della vendita diretta, con un piano compensi collaudato che premia supporto ai distributori, dalla ricerca dei primi clienti allo sviluppo di una propria organizzazione. Un viaggio che non dovrai fare da solo, entrerai a far parte di una comunità globale che ti ispirerà e ti sosterrà in ogni momento. Avrai anche accesso a molteplici iniziative formative con cui acquisire preziose competenze commerciali e personali. L'intento di Herbalife Nutrition è semplice. Rendere il mondo più sano e felice. Da 39 anni i distributori Herbalife Nutrition sono al fianco dei clienti per aiutarli a raggiungere obiettivi e risultati sostenibili. Il merito non è solo dai prodotti eccellenti o dall'esempio stimolante offerto dagli atleti che sponsorizziamo, ma anche dall'assistenza personalizzata, del supporto degli altri e della formazione continua. Col tempo non solo potrai costruire una tua attività, ma ti divertirai e potrai aiutare altri a scoprire il loro vero potenziale. Ciao, io mi chiamo Luigi e da più di vent'anni sono un distributore indipendente Herbalife e in questa chiacchierata ti parlerò dell'opportunità di business Herbalife. Ora, è bene per te sapere che questa presentazione è esplicitamente strutturata per presentare solo l'opportunità di business Herbalife. Quindi non parleremo dell'azienda e non parleremo dei prodotti. Perché? Perché abbiamo già trattato questi argomenti nella sessione precedente e vogliamo focalizzarci in questa chiacchierata solo sull'opportunità di business. Ovviamente, se vorrai, potrai approfondire azienda e prodotti nei prossimi appuntamenti che abbiamo in programma per il prossimo futuro. Di questo parlanne con la persona che ti ha invitato a guardare questo filmato. Quindi in questa chiacchierata vedremo la differenza che c'è tra un lavoro e un'opportunità di business nella quale puoi gestire anche il tuo tempo. Vedremo l'evoluzione del concetto di imprenditoria fino ad arrivare a costruire guadagni di qualità, quindi esegati dal tuo tempo lavoro. Vedremo come diventare imprenditori, quindi senza problemi fiscali come le tasse, l'IMPS, i redditi presunti o il cumulo con altri redditi. E senza problemi con i pagamenti, quindi no ritardi, no insoluti, no post datati e senza costi di gestione, quindi no dipendenti, no magazzino, no commercialista, no costi di avviamento. Tutte queste sono problematiche che purtroppo in questo momento gli imprenditori vivono quotidianamente. Vedremo come avviare un'attività improprio, quindi senza rischi però. Però lo puoi fare sia come fonte primaria di reddito che come piano B, no? Come alternativa ad un'eventuale attività che in questo momento, lavorativa intendo, che tu in questo momento hai già in piedi. E vedremo come costruire una rendita, quindi guadagni residuali che non provengono dal tuo lavoro diretto in questo momento, ma dal fatto di aver costruito un sistema che produce reddito, che tu lavori o no. E in questa chiacchierata vedremo come approfittare del mercato più ricco, attuale e promettente che è l'industria del benessere, un mercato di cui si occupano i più importanti economisti al mondo tra i quali Paul Zain-Pilzer, che magari non conoscerai ma potrai scoprire facilmente che è uno delle elementi economiche più importanti del pianeta. E vedremo come fare tutto questo approfittando dell'azienda numero uno nel settore, con oltre 40 anni di esperienza, solidità finanziaria, scienza e ricerca, sistemi collaudati, sistema di formazione efficacissimo e un sistema di logistica e finanziaria già a tua disposizione. E come farlo approfittando della nostra esperienza come squadra, un team organizzato con procedure collaudate, sistemi di lavoro testati, strumenti efficaci, un supporto globale e flussi di lavoro chiari che tu puoi utilizzare per far nascere e far prosperare la tua attività. In questa chiacchierata vedremo come guadagnare fin da subito e come scalare le posizioni del piano compensi dell'azienda e in più ti faremo conoscere alcune delle persone che già lo stanno facendo con ottimi risultati. Ora, anzitutto vorrei con te focalizzare una situazione ricorrente. Qualunque sia la tua fonte di reddito in questo momento, qualunque sia la tua entrata, la situazione è normalmente questa. Hai delle spese, quindi l'affitto, il mutuo, delle rate da pagare, delle bollette ovviamente, magari hai dei debiti che stai saldando, a volte ci sono degli imprevisti, poi devi vivere, hai delle spese per vivere quotidianamente. Per tutte queste cose ovviamente finisce il mese e tutto ricomincia da capo perché nel frattempo hai consumato tutto il tuo reddito in ingresso, i soldi sembra che non bastino mai. Ora, rispetto a questa cosa di come produrre reddito devi sapere che ci sono sostanzialmente due modi per produrre reddito. Il primo è il reddito legato al tuo lavoro diretto. In questa categoria rientrano ovviamente i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Qual è la caratteristica di queste tipologie di lavoro? La caratteristica è che se ti fermi tu, anche il tuo reddito si ferma. Se tu sei un dipendente e non vai al lavoro, non ti pagano più. Se tu sei un lavoratore autonomo, che ne so, un personal trainer, un avvocato, un fisioterapista, se tu non lavori, se tu ti fermi, tu non guadagni. Bene, devi sapere che esiste un altro modo per produrre reddito che sono redditi non dipendenti dal tuo tempo. In questa categoria di redditi il tuo reddito lavora e arriva che tu lavori personalmente o no. In questa categoria rientrano per esempio gli autori di libri, di musica, gli imprenditori che hanno messo in piedi un'azienda collaudata, solida e quindi che funziona che loro ci sono o meno. E rientrano anche i networker. Ora, gli autori pensaci, no? Pensa a un cantante che tu conosci, Vasco Rossi. Magari Vasco Rossi ha pensato, scritto e cantato Alba Chiara, mi viene in mente, no? Molti anni fa. Ancora oggi, quando quella canzone va in radio, lui percepisce le sue royalty, quindi i suoi diritti. Ma lui l'ha cantata magari 30 anni fa, 40 anni fa, neanche ricordo quanto. Però ancora oggi, grazie al lavoro fatto allora, lui riesce a percepire dei redditi residuali. Ecco, nella stessa categoria fanno parte anche gli imprenditori di livello e, ovviamente gli imprenditori con tutte le difficoltà che ti ho descritto prima, e le persone che lavorano nel network marketing. Esattamente, il network marketing di cui magari avrai sentito parlare fino ad oggi. Tanto per cominciare, voglio dirti che il network marketing non è qualcosa che sta nascendo adesso, è qualcosa di estremamente consolidato a livello globale. In questa immagine tu vedi le più importanti aziende miliardarie al mondo, sono i fatturati delle industrie miliardarie nel mondo. Ecco, tu puoi vedere come il network marketing, a livello globale, fatturi circa 167 miliardi di dollari americani. Guarda alla sua destra, tu puoi vedere il fatturato dell'intera industria cinematografica. Immaginati Hollywood, Bollywood, tutto ciò che ruota intorno all'industria cinematografica fattura 80 miliardi di dollari all'anno. Esattamente la metà, circa alla metà dell'industria del network marketing. Quindi il network marketing è qualcosa di veramente molto importante dal punto di vista economico a livello globale, consolidato, funziona benissimo e non è qualcosa che stiamo provando a fare noi. Un'altra buona notizia per te è che in Italia il network marketing funziona benissimo. Tu pensa che dal punto di vista del fatturato l'Italia è al dodicesimo posto al mondo tra tutte le aziende che lavorano nel network marketing e gli incaricati alle vendite sono oltre 103 milioni ed è bene per te sapere che ovviamente il network marketing è regolamentato e tutelato da una serie di leggi e categorie di settore come per esempio la Direct Selling Association, la Seldia, in Italia abbiamo l'Avedisco che è l'associazione vendita diretta e servizio al consumatore, insomma abbiamo tante tante associazioni che tutelano i consumatori, l'azienda e i distributori rispetto all'opportunità di business che ti sto presentando. Ora un'altra buona notizia per te è che Herbalife è ovviamente un'azienda nutrizionale ma che ha scelto il network marketing come sistema di distribuzione. Quindi persone che svolgono un'attività indipendente ma con molte possibilità di guadagno senza investire denaro, hai capito bene? Senza investimenti. Ora cosa fa un distributore Herbalife? Cosa fa un coach del benessere Herbalife? Tanto per cominciare pratica, approfondisce e condivide uno stile di vita sano attivo quindi ha scelto per sé una vita sana. Da punto di vista commerciale invece è un imprenditore indipendente che commercializza i prodotti Herbalife lui personalmente oppure tramite una propria rete di persone. Volendola schematizzare questa cosa un personal coach del benessere Herbalife costruisce guadagni diretti dal fatto di costruire e assistere un portafogli di clienti al dettaglio e costruisce rendite e benefit dal fatto di costruire e assistere una propria rete commerciale di distributori indipendenti. Quindi grazie al fatturato di questa rete riesce ad avere una serie di vantaggi economici che sono riconosciuti a lui come premi aggiuntivi. Nella parte bassa di questa immagine puoi vedere alcune delle aree di guadagno che noi abbiamo. Abbiamo molteplici aree di guadagno. Ora quali sono le caratteristiche dell'attività Herbalife? Anzitutto questa è un'attività indipendente quindi tu non hai capi e non avrai dipendenti. È un'attività che puoi svolgere part time o a tempo pieno e con flessibilità di orario. Significa che anche se tu lo farai part time puoi farlo nel tempo che tu vorrai dedicare a questa attività, non avrai gli orari bloccati. Non sono richiesti investimenti, non ci sono costi di gestione e quindi non ci sono rischi commerciali. Puoi costruire dei guadagni slegati dal tempo, hai la possibilità di avere guadagni elevati, hai la possibilità di fare carriera se vuoi, hai la possibilità di viaggiare se ti piace viaggiare, hai la possibilità di lavorare da casa o di operare in centri, location fisiche, uffici dai quali e nei quali puoi svolgere la tua attività. E molto importante noi godiamo di importantissimi vantaggi fiscali ma di questo te ne parlerò più avanti. Ora come si comincia l'attività Herbalife? Si comincia acquistando dall'azienda tramite la persona che ti sta invitando e ti ha invitato a guardare questo video una cosa che si chiama Herbalife Member Pack che è la valigetta che vedi sulla destra di questa di questa slide. Herbalife Member Pack non è altro che un kit d'avvio all'interno del quale tu trovi tutto quello che ti serve per avviare la tua attività. Herbalife Member Pack ha un costo di 60 euro ma è bene che tu sappia che su questa operazione commerciale dell'acquisto del kit il tuo distributore, la persona che ti ha invitato a guardare questo video non avrà nessun guadagno, non è possibile, non guadagniamo per iscrivere persone della nostra azienda. E una cosa molto interessante per te da sapere è che con questi 60 euro tu avrai questa valigetta che vedi all'interno della quale troverai tanti strumenti come per esempio di letteratura, manuali, guide, brochure, cataloghi, DVD, alcuni strumenti operativi, uno shaker veramente molto bello che potrai utilizzare e in più avrai quello che tu vedi, quel prodotto che tu vedi che è il nostro prodotto più venduto al mondo, il pasto sostitutivo Herbalife, la Formula 1 che pensa prezzo al pubblico ha un costo di 47 euro. Ecco tutto questo tu ce l'avrai per 60 euro. Puoi capire che non è il nostro business vendere kit d'avvio ma il kit d'avvio ti serve per avere tutti questi materiali e soprattutto per cominciare in prima persona a utilizzare i tuoi prodotti. Molto importante quando tu acquisti il tuo kit d'avvio, il tuo Herbalife Member Pack attiverai implicitamente quello che è il tuo codice identificativo Herbalife. Quindi potrai fare un'iscrizione che è immediata, la fai online, l'attivazione del codice è immediata, avrai accesso al sistema di supporto, avrai accesso ai portali internet sia dell'azienda che del nostro team e avrai accesso alla procedura di avviamento e formazione per la tua attività. Tutto questo grazie al tuo codice identificativo che ti verrà immediatamente attivato al momento dell'iscrizione tramite l'Herbalife Member Pack. E molto importante per te da sapere che questo codice tra i vari vantaggi ti darà anzitutto la possibilità di avere uno sconto del 25% su tutti i prodotti Herbalife che ovviamente punto numero uno ti servirà per acquistare i prodotti per te con uno sconto, quindi risparmierai sui tuoi acquisti. Punto numero due ovviamente acquistando i prodotti con lo sconto e rivendendo i prodotti ai clienti, al prezzo al pubblico stabilito per quei prodotti, questo 25% sarà il tuo primo guadagno immediato. Un'altra cosa che non ti ho ancora detto è che attivando il tuo codice tramite l'Herbalife Member Pack tu avrai, come incaricato alle vendite, tu avrai dall'azienda un sito web con e-commerce incluso completamente gratuito, quindi l'azienda ti omaggia del sito web con e-commerce grazie al quale tu puoi fare anche operazioni commerciali a distanza tramite la rete. Tutto questo compreso nei 60 euro del tuo Herbalife Member Pack. Ora la domanda è come si guadagna? Parliamo di questo, la prima area di guadagno sono ovviamente i tuoi clienti al dettaglio, quindi quello che abbiamo visto accadere in questi 40 anni di esperienza è che, vedi, i prodotti Herbalife cambiano le persone, danno risultati visibili, quindi quando tu starai utilizzando i prodotti, qualunque sia la tua situazione in questo momento, i risultati, i tuoi risultati si vedranno e intorno a te le persone se ne accorgeranno. E quello che abbiamo visto accadere è che normalmente i tuoi amici, i familiari, i conoscenti, i colleghi, insomma le persone che ti sono intorno ti chiederanno e vorranno anche loro cominciare a ottenere i tuoi stessi risultati, quindi quello che accade è che i tuoi primi clienti saranno le persone che tu hai intorno e tra l'altro tu avrai voglia di aiutare queste persone con i risultati che tu stesso stai ottenendo, perché se gli vuoi bene vuoi che anche loro ottengano gli stessi risultati. Ecco, rifornendo queste persone dei prodotti Herbalife, siccome tu le acquisti con il 25% di sconto e loro l'acquisteranno prezzo al pubblico, tu avrai il tuo primo guadagno diretto del 25%. Il resto è passaparola, passaparola dovuto ai risultati che questi prodotti danno alle persone e questo innesca, avvia la tua attività. Infatti, utilizzando correttamente i prodotti, qualunque sia la tua situazione, dicevamo che tu voglia perdere peso, aumentare di massa, avere una migliore pelle, avere più energie e vitalità. Insomma, le persone si accorgono del tuo cambiamento. Ecco, quando intorno a te tu avrai circa 4 persone che utilizzano il programma base di Herbalife, l'azienda ti premia e porta il tuo sconto dal 25% al 35% e questo ti consentirà tanto per cominciare di, tra virgolette, autofinanziarti i prodotti per la tua nutrizione giornaliera. Quindi, noi definiamo questa posizione che chiamiamo Senior Consultant, una posizione nella quale tu hai l'autofinanziamento e perché no un piccolo primo guadagno, ma non è altro che l'inizio della tua attività. Perché? Perché continuando a utilizzare i prodotti tu e queste persone, altre persone si accorgeranno dei risultati e altre persone vorranno utilizzare i nostri fantastici prodotti. Quindi tu consiglierai questi prodotti, ma lo faranno anche le persone intorno a te perché si troveranno bene. Quindi questo farà aumentare il tuo fatturato e questo farà aumentare la tua percentuale. Quando 10 persone utilizzano i prodotti, la tua percentuale di sconto passa al 42% e in questa posizione già cominci a guadagnare qualche soldino. In particolare, quando sarai in questa posizione avrai, ecco, una decina di persone intorno a te, tu starai guadagnando circa 500 euro al mese. Ora, è ovvio che 500 euro al mese non sono un guadagno stratosferico, ma è altrettanto ovvio, direi, evidenziare che con 500 euro al mese puoi sistemare tante cose tu e le persone intorno a te. In Italia 500 euro al mese in più cambiano le sorti di parecchie famiglie. Sono certo che tu sarai d'accordo su questa cosa. Ora, insegnando a fare questa cosa ad altre persone, che lo insegnano ad altre persone, ovviamente questo fa aumentare i tuoi fatturati e Herbalife ti paga ogni mese dei premi aggiuntivi sul fatturato lordo della tua rete commerciale. Quindi, di fatto, più persone aiuti e più guadagni. Questo è il concetto di base del network marketing. Andando avanti così, tu diventerai supervisore e accederai all'area di guadagno più importante di Herbalife, che sono le royalties. E te le spiego con un esempio veramente molto semplice, ma che ti farà capire che cosa sono queste royalties. Ora, diciamo che seguendo il piano, in Italia, in un periodo che va dai 4 ai 6 mesi, tu puoi diventare un supervisore Herbalife. E come supervisore Herbalife, tanto per cominciare, il tuo guadagno passerà, il tuo sconto passerà al 50% e quindi guadagnerai di più a parità di clienti, perché avrai uno sconto semplicemente maggiore. Ora, abbiamo detto che nel frattempo tu hai cominciato a costruire la tua rete commerciale. Anche questi distributori, a loro volta, cresceranno nel piano marketing e anche loro diventeranno dei supervisori. Adesso ti faccio vedere cosa succederà quando questa rete commerciale comincia a duplicarsi, con un esempio molto semplice che noi chiamiamo il 3x3, che nella realtà non si realizza mai così schematico, ma questo esempio banale, semplice, mi serve per spiegarti il concetto. Quindi a un certo punto tu ti ritroverai ad avere nella tua rete commerciale i tuoi primi 3 supervisori che avrai costruito tu. Siccome li hai iscritti tu, noi chiameremo queste persone la tua prima linea. Ecco, loro faranno quello che hai fatto tu e quindi dopo un po' anche loro si troveranno ad avere ognuno di loro 3 supervisori nella loro prima linea e tu ti ritroverai nella tua seconda linea 9 supervisori. Continuando a duplicare questa cosa, in terza linea ti ritroverai 27 supervisori. In totale, in questo semplice schema, tu ti ritroverai ben 39 supervisori nei primi 3 livelli. Ora, ti faccio notare che di questi 39 all'inizio tu ne conoscevi solo te e grazie al potere della duplicazione e della moltiplicazione del network marketing, tu avrai 39 supervisori su 3 livelli e la buona notizia è che Herbalife ti pagherà un 5% in funzione del fatturato lordo di tutte 39, non solo dei 3 che conoscevi, ma su tutte 39. Quindi hai delle royalties del 5% sui primi 3 livelli di supervisori. Ora ti starai chiedendo ma di cosa stiamo parlando? Di quanti soldi stiamo parlando? Bene, tu devi sapere che il nostro obiettivo è aiutare i nostri supervisori ad avere una base stabile di consumatori di circa 20 persone, quindi 20 clienti a testa. Se in questo esempio queste persone non sono poi così brave e hanno una media di soli 10 clienti a testa, quindi non i 20 di cui ti avevo parlato, cosa sta accadendo nella tua rete commerciale? Che tu hai 39 supervisori, siccome ognuno di loro ha 10 clienti, tu avrai nella tua rete commerciale 390 consumatori che stai rifornendo grazie alla tua rete commerciale. Questo è un fatturato importante e le tue intermediazioni su questo fatturato saranno qualcosa che va dai 3.500 ai 5.000 euro al mese e questi sì sono guadagni davvero importanti. Se tu consideri che non abbiamo problemi fiscali su questo tipo di guadagno, sono guadagni che possono far gola a tante persone. Quindi cosa abbiamo visto? Se lo vogliamo mettere in uno schema Excel, quelle che vedi sono delle schermate di un programma, di un foglio di calcolo elettronico che si chiama Excel, in questo schema abbiamo il presupposto che ogni cliente, questo è quello che accade quotidianamente, utilizza circa 100 punti volume al mese e con questo fatturato, questo cliente genera circa 65 euro di guadagno al suo supervisore. Abbiamo visto prima che se tu hai 3 persone che si duplicano in prima linea, quindi 39 nei primi 3 livelli, ognuno di loro ha 10 clienti, se il foglio di calcolo fa tutti i calcoli, tu starai guadagnando 650 euro dalla vendita diretta, hai delle royalties di 2500 euro al mese e dei bonus di circa 1100 euro al mese. Hai un totale mensile di 4277 euro e già fai parte di un livello che si chiama Global Expansion Team. Ora ti faccio vedere cosa succede se tu insegni ad una persona in più a fare la stessa cosa è a duplicarsi, quindi cosa succede se in prima linea tu hai non 3 ma 4 persone che ti duplicano? Ecco cosa succede, succede che in totale tu hai 84 persone nei primi 3 livelli perché ne hai 4 in prima linea, 4 per 4 fa 16, 16 per 4 fa 64. Hai un totale consumatori assistiti nei 3 livelli di 840 consumatori perché tu hai 84 supervisori che stanno rifornendo 10 clienti a testa. Hai un fatturato molto importante e questo genera per te un guadagno di quasi 11.000 euro al mese. E se sono 5? Che succede se ci sono 5 persone che ti duplicano e si duplicano? È semplice, hai 155 persone nei primi 3 livelli, stai servendo più di 1500 consumatori al mese e stai guadagnando quasi 20.000 euro al mese. E cosa succede se diventano 6? Se diventano 6 accade la magia, raggiungi il livello più ambito nel piano marketing di Herbalife. Perché? Perché stai rifornendo quasi 2600 consumatori nei primi 3 livelli e questo genera per te un guadagno stratosferico, ovviamente, di quasi 40.000 euro al mese. Quindi come vedi è tutto un tema di clienti, di quantitativo di clienti che utilizzano quotidianamente i loro prodotti, ottengono i loro risultati grazie all'assistenza che gli facciamo noi e i supervisori, i distributori della nostra rete commerciale. Con più persone noi serviamo direttamente e indirettamente, maggiore sarà il fatturato e quindi ovviamente maggiori saranno i nostri guadagni. Ora però non vorrei averti confuso con tutti questi numeri, con tutte queste schede. Questa è un'attività semplice da fare. Qui bisogna fare solamente due cose. La prima è utilizzare e condividere i prodotti Herbalife. La seconda è costruire un team di persone che utilizzino e condividono i prodotti Herbalife. Al resto ci pensa il computer di Herbalife. Ora ti parlo dei risultati perché ti voglio dire cosa sta già succedendo in Italia e nella nostra rete commerciale. Ci sono coach e supervisori che magari stanno rifornendo il loro parco clienti, magari ancora non hanno cominciato a costruire la loro rete commerciale, che guadagnano dai 500 ai 1000 euro al mese, diciamo fino a 1000 euro mensili attraverso la vendita diretta. Quando queste persone cominceranno a sviluppare anche un po' di rete commerciale raggiungeranno altre posizioni. Una di queste è il World Team e in questa posizione, diciamo quando c'è già un po' di rete commerciale sviluppata, si riesce a guadagnare fino a 2000 euro mensili attraverso la vendita diretta e le intermediazioni della propria rete commerciale. continuando a crescere si possono raggiungere le posizioni come l'Active World Team o il Global Expansion Team. In queste posizioni i guadagni vanno dai 2000 ai 8000 euro al mese e adesso voglio mostrarti un paio di persone che sono a questo livello per farti comprendere come è possibile per persone normali senza uno specifico background seguendo il piano arrivare a costruire un'attività così redditizia. Guardiamo le loro storie. Ciao sono Andrea, ho quasi 25 anni, ho conosciuto Herbalife circa 5 anni fa perché non facevo colazione nonostante sono uno sportivo, gioco in sede di footman americano, studiavo scienze motori e a casa avevo papà che era medico e mamma che era infermiera. Ho iniziato ad utilizzare questi prodotti, ho perso peso, ho aumentato massa muscolare, ho migliorato le performance però questa attività non la volevo assolutamente fare perché pensavo fosse un'attività di vendita e di rompere le scatole a quelli che erano i miei amici. Essendo timido, non avendo mai lavorato in vita mia e pensavo di non avere tempo, immaginavo che questa attività non facesse per me. Però utilizzando i prodotti la gente intorno a me si accorta dei risultati che stavo ottenendo, mi hanno cominciato a chiedere e quindi mi è nata una condivisione spontanea che mi ha portato quei 200-300 euro che a 19-20 anni fanno comodo. Così questo mi ha incuriosito e sono andato a vedere una sessione informativa e da lì poi ho capito esattamente che non si trattava di un semplice vendi e ricomperi di barattoli ma c'era una vera e propria opportunità commerciale e finanziaria. Quindi mi ci sono impegnati, i primi due anni e mezzo l'ho fatta part-time durante l'università ma visto che ho seguito alla lettera tutto quello che mi hanno detto di fare e le istruzioni e sfruttando porzioni di tempo libero, in due anni e mezzo sono diventato un manager aziendale. Oggi la faccio full-time, sono cinque anni che faccio questa attività, mi è completamente cambiata la vita. Alessandro Proni, ho 36 anni, sono un ex ciclista professionista, ho partecipato a tutte le gare più importanti al mondo tra cui Giro Italia, Milano Sanremo, Trienio Adriatico, Giro di Svizzera dove ho vinto una bellissima tappa di montagna, ho scoperto i prodotti Herbalife mentre ero ancora in competizione grazie a un mio amico, per fortuna gli ho dato retta, mi hanno completamente cambiato soprattutto nel recupero, i tempi di recupero e l'energia e quindi di conseguenza l'aumento delle prestazioni. Dal 2013 non sono più un corridore professionista ma sono un biomeccanico e personal trainer quindi ho gli atleti un po' sparsi in tutto il mondo e non posso non consigliare i prodotti Herbalife perché? Perché io scrivo preparazioni però se l'atleta riesce ad alimentarsi e nutrirsi in un determinato modo le prestazioni di conseguenza aumentano e quello che mi capita quando consiglio questi prodotti puntualmente dopo uno barra due giorni mi arriva il messaggino sul cellulare con scritto ma che mi hai dato? E io prendo e sorrido perché lo stesso messaggio l'avevo mandato al mio amico quindi in brevissimo tempo ho sentito e i miei atleti sentono il cambiamento fisico ed è lì che sono voluto andare a fondo e capire chi era Herbalife e ho scoperto che dietro è un'azienda che esiste da 40 anni a solide basi scientifiche, dottori premi Nobel e quindi mi sono sentito ancora più al sicuro nel consigliare questi prodotti. Oggi Herbalife non fa parte solamente del mio lavoro ma fa parte della mia vita e la mia vita familiare infatti anche mia moglie e le mie bambine usano Herbalife quindi non devi essere per forza sportivo per usare i prodotti Herbalife e quindi grazie Herbalife. Ciao mi chiamo Manuela e ho 39 anni e vivo a Roma. Prima di Herbalife ero una commercialista sono stata impiegata attraverso una società di Roma per ben 15 anni. Inutile dire che di tempo libero ne avevo veramente poco uscivo la mattina alle 7 per rientrare a casa alle 7. La situazione è peggiorata quando insieme al mio compagno Manuel abbiamo deciso di mettere su famiglia abbiamo fatto in tempo a pensare alla nostra bambina che subito dopo un anno già era in casa nostra. A quel punto però non solo non avevo più tempo per me ma non avevo neanche più tempo per mia figlia e la cosa mi depeneva molto. Mi sentivo in colpa sia come mamma e come donna. La gravidanza mi ha lasciato circa 10 kg di troppo. Ero convinta di poter perdere subito peso con un po' di dieta un po' di attività fisica ma purtroppo non è stato così. Ad una festa di compleanno incontro una mia carissima amica e mi parla di prodotti Herbalife. Io ero molto scettica perché di diete ne avevo provato veramente tanto con scarsissimi risultati. Scettica sì però aperta mentalmente. Andai a casa e cercai un coach del benessere per cercare di capire cosa fare. Nel giro di poco tempo mi ritrovai a cambiare la mia giornata a livello nutrizionale ma la cosa più entusiasmante è che mi sentivo tanta energia che nemmeno a 20 anni avevo. I risultati su me stessa mi hanno incuriosito e mi hanno portato a cercare informazioni su questa azienda. Sono stata invitata ad una sessione informativa e ho scoperto che c'era un'opportunità lavorativa anche per me. Ho iniziato questa attività part time ma dopo poco, visto l'interesse che nasceva, è diventato un lavoro full time. Mi sono licenziata da quello che ho fatto per 15 anni ed oggi finalmente sono una donna libera. Una mamma che ha la possibilità di seguire i propri figli e soprattutto la possibilità di dedicare il tempo di qualità alla mia vita e all'interno della mia famiglia. Quello che vedo nel mio futuro in questo momento è una vita piena di gratificazioni, la possibilità di far carriera nonostante sono una mamma e soprattutto la libertà di poter fare ciò che vogliamo fare nel momento in cui vogliamo farlo. Ciao sono Fabrizio Sciardini, ex imprenditore. Mio padre ha avuto per 40 anni due giochelliere storiche della nostra città e ho lavorato circa per 20 anni dentro, avevamo dei dipendenti, un'azienda di famiglia e guadagnavamo bene. Però a un certo punto mi sono trovato stretto dentro quattro mura, non avevo più la possibilità di uscire e fare le mie cose, non avevo più tempo per me e per la mia famiglia e questo mi ha dato una sofferenza, quindi non mi sentivo più bene, non mi trovavo più bene in questa attività che era in essere. Tanto in questo malessere ho iniziato a scoprire Herbalife perché dovevo saltare il pranzo, perché spesso e volentieri stavo in negozio e usando questi prodotti mi sono innamorato follemente di Herbalife e ho avuto la possibilità di andare a un evento per vedere come funzionava l'attività Herbalife. Da lì da imprenditore ho capito l'importanza e la potenza di questa grande azienda e da lì ho chiuso le mie vecchie attività e mi sono messo a fare il coach full time e ragazzi la qualità della vita, il tempo libero, posso fare quello che mi pare, nel tempo e crearmi tutte le situazioni come voglio. Adesso nel mio futuro vedo tanto tempo libero e ho la possibilità di godervi la mia famiglia, guadagnare più di quello che guadagnavo prima e avere una vita meravigliosa. Ora ovviamente queste persone non si fermeranno e continueranno a sviluppare la loro rete commerciale e questo gli consentirà di aumentare, di crescere nei fatturati e di aumentare i loro guadagni e quando il fatturato nella loro rete commerciale arriverà circa un milione di dollari all'anno ecco che queste persone arriveranno ad un livello che si chiama millionaire team e nel livello del millionaire team i guadagni vanno dagli 8 ai 20 mila euro al mese in questo momento in italia abbiamo più di 200 persone che sono in questo livello. Continuando a crescere quando i fatturati quasi triplicano rispetto a quelli dei millionaire team si raggiunge come ti ho detto prima la posizione più importante del piano marketing di Herbalife che è quella del president team. In Italia abbiamo circa 40 persone che sono in questo livello che guadagnano oltre 20 mila euro al mese e una cosa che tengo a dirti è che tutte le cose che ti sto raccontando non rappresentano né garanzia né promessa di guadagno lo capisci da solo questa è un'attività indipendente quindi non ti non ti possiamo promettere questi guadagni ma ti possiamo mostrare le nostre storie che sono la testimonianza che si è possibile arrivare a certi livelli e costruire questi redditi lavorando giorno dopo giorno ed in tempi ragionevoli così come è accaduto per me e mia moglie è narita nel 99 io ero un maresciallo dell'aeronautica mia moglie era un direttore di banca e noi non stavamo cercando niente stavamo bene un giorno in spiaggia abbiamo visto una persona utilizzare i prodotti Herbalife io mi sono incuriosito ho chiesto e lui ci ha invitato a saperne di più in una sessione informativa qui vicino Roma e lì vi di persone che ottienevano grandi risultate con i prodotti e vi di persone che stavano costruendo redditi dai piccoli a quelli grandi e mi sono chiesto perché non io perché non noi e dopo abbiamo cominciato subito l'attività part time dopo tre mesi le cose andavano così bene che mi sono messo in aspettativa in aeronautica e dopo 18 mesi dall'inizio abbiamo io ho lasciato l'aeronautica perché le cose andavano veramente molto bene dal punto di vista del reddito e mia moglie dopo un po' si è messa part time in banca lei era un direttore di intesa san paolo adesso sono cinque anni credo che ha lasciato anche lei la banca e noi nel 2015 abbiamo raggiunto questa posizione che è quella del president steam che è stato il nostro sogno da sempre quindi dopo 15 anni di attività Herbalife abbiamo raggiunto questa posizione e questo ci consente di avere uno stile di vita veramente impensabile non so se quando abbiamo cominciato avremmo creduto al fatto di poter raggiungere questa posizione ma passo dopo passo seguendo il piano con l'aiuto dell'azienda con il sistema di supporto e tutto quanto oggi siamo liberi da tutti i punti di vista possiamo goderci la vita insieme al nostro bambino e viaggiamo il mondo abbiamo una bellissima casa belle auto insomma viviamo la vita dei nostri sogni e siamo molto grati per aver incontrato Herbalife ma non ti abbiamo raccontato tutte queste storie per impressionarti te le abbiamo raccontate perché vogliamo mostrarti che persone diverse seguendo il piano possono realizzare quello che desiderano da un piccolo reddito extra fino all'indipendenza finanziaria ecco questo è quello di cui ti avevo parlato prima il nostro regime fiscale noi abbiamo un regime fiscale agevolato questa è la legge che ovviamente regolamenta tutto tutto quanto i nostri guadagni non fanno cumulo con alti redditi abbiamo una rottinuta alla fonte del 1794 e l'azienda fa per noi da sostituto totale d'imposta non abbiamo problemi con l'iva la nostra posizione iva che comunque viene aperta solo più avanti quando già guadagni più di 6400 euro all'anno non ha spese d'apertura non ha spese di mantenimento non ti dà problemi anche l'iva te la paga la nostra azienda e ovviamente l'azienda ci paga anche i contributi in nella misura in cui i due terzi li paga l'azienda e un terzo li trattiene dal nostro guadagno mensile quindi tutto quanto apposto tutto regolamentato tutto regolare tutto estremamente ben fatto e estremamente solido come ti dicevo noi non possiamo prometterti dei guadagni perché questa è un'attività indipendente ma sì possiamo prometterti supporto tu avrai un coach personale e un team di persone esperte che ti guideranno e ti aiuteranno e ti supporteranno in ogni fase come ti ho detto tu avrai accesso a siti internet come per esempio il tuo sito con e commerce ma abbiamo il portale dell'azienda che è veramente estremamente efficace con strumenti formazione materiale tanta roba che puoi utilizzare nella tua attività dopo 40 anni puoi immaginare quante cose sono a tua disposizione avrai accesso ai portali riservati ai distributori come ti dicevo quello dell'azienda ma anche quello nostro di squadra dove potrai conoscere i dettagli di come funziona la nostra attività potrei scaricare materiali strumenti conoscere i flussi di sviluppo potrai progettare il tuo successo e realizzarlo col nostro aiuto avrai strutture strumenti da utilizzare avrai un programma di formazione completa dalle basi fino alla leadership è tutto già pronto per te da utilizzare quando sarà il tuo momento per farlo e potrai far parte di una grande squadra questa è un'attività indipendente ma che non si svolge da solo la farai di squadra quindi qui è tutto già pronto per te da utilizzare quindi se sei pronto ad avviare la tua attività sappi che noi stiamo identificando due profili possibili profilo a e il profilo b profilo a sono le persone che vogliono ottenere un'entrata mensile commercializzando i nostri prodotti e quindi ricavando dal 25 al 50 per cento del prezzo finale le persone del profilo b sono le persone che vogliono costruire una rendita un'indipendenza finanziaria costruendo la propria rete commerciale e ottenendo le commissioni crescenti sui fatturati che questa rete sviluppa ora qualunque sia la tua scelta per noi va bene per noi a non è meglio di b e b non è meglio di a quello che però abbiamo bisogno di sapere è qual è il tuo obiettivo quindi parlane con la persona che ti ha invitato a guardare questa presentazione e fai subito i primi passi quali sono i prossimi passi da fare molto semplice sono quattro la prima attiva subito il tuo codice identificativo acquistando il tuo herbalife member pack tramite la persona che ti ha invitato a guardare questo video lo farai online a un costo di 60 euro e il tuo codice sarà immediatamente attivo appena il tuo codice sarà attivo registrati sul nostro portale di supporto quindi per farlo avrai bisogno di inserire il tuo codice herbalife che ovviamente sia parte del nostro team passo numero 3 segui le istruzioni non ti devi inventare la ruota e segui le istruzioni che troverai nella pagina introduzione del portale e comincia il tuo avviamento devi imparare delle cose questa è un'attività semplice ma che va imparata punto numero 4 partecipa prossimo evento nella tua zona vienici a conoscere di persone vogliamo incontrarti di persona per poterti supportare al meglio e poter con te progettare il successo della tua nuova attività è un'ultima cosa segui il piano se segui il piano il piano funzionerà e funzionerà anche per te quindi a nome mio di mia moglie di tutto il team benvenuto nel team hd è un'ultima cosa segui il piano funzionerà e funzionerà e funzionerà e funzionerà e funzionerà. Grazie 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 Grazie